Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Sì, in questi giorni stiamo implementando uno studio osservazionale retrospettivo che serve per determinare eventuali fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza da Covid. I fattori di rischio che possono essere di tipo intrinseco ma possono essere anche di tipo estrinseco e noi andiamo a individuare questi fattori che vanno a aumentare la probabilità dell'infezione. Ricordo che tra questi fattori di rischio possono esserci delle condizioni cliniche del paziente quindi le patologie che sono in atto, patologie croniche quindi patologie cardiovascolari ma ci possono essere patologie broncopolmonari, ci possono essere anche forme tumorali ma ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici che sono fonte di alta probabilità dell'infezione tipo gli antipretensivi o tipo anche gli antidiabetici o antiasmatici. Ci possono essere anche dei parametri antropometrici tipo l'indice di obesità, ci possono essere anche fenomeni genetici tipo il gruppo sanguigno ma ci possono essere anche stili di vita tipo il fumo, l'alcol o l'attività fisica. Questo studio lo affronteremo andando a leggere tutte le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati dal 1 marzo 2000 a oggigiorno e sono circa un migliaio. Andiamo a leggere e andiamo a raccogliere i dati sulle condizioni cliniche del paziente, sui trattamenti farmacologici e tutta una serie di dati. Questi migliaia di cartelle cliniche, di questi dati, noi andremo a confrontarle con un pari numero di pazienti che sono presenti a livello territoriale, che non hanno mai avuto accesso in un ospedale per Covid o non sono mai stati positivi al Covid, quindi sono persone neutre e che non hanno mai avuto infezioni virali. Quindi andando a confrontare questi due gruppi, noi andiamo a vedere le varie differenze statistiche che ci sono tra le varie patologie, in modo tale da determinare questi eventuali fattori di rischio che ci possono essere tra le popolazioni. Ci vuole coraggio, bisogna cominciare a pensare di riaprire. A Venezia annunciamo che siamo pronti per aprire il museo il 24-25 aprile e ci sembrerebbe una bella data, la data della liberazione, la data del boccolo degli innamorati a Venezia, un giorno che è dedicato alla libertà e all'amore. Se il CTS non ci consentirà, la situazione sanitaria dovesse essere, siamo pronti per farlo e proponiamo di farlo il primo e il 2 maggio. Confermiamo l'apertura il 22 maggio della Biennale Architettura e il 29 maggio del Sorano Nautico. Ovviamente chiediamo che si aprano anche i plateatici dei ristoranti, che si possano aprire anche le discoteche all'aperto, si possono aprire le altre attività, le palestre, magari tutto in sicurezza, a tutti ricordiamo la mascherina, la distanza obbligatoria, lavarsi le mani, dovremmo continuare a convivere col virus, però dobbiamo ricominciare a vivere. Ecco, io penso che siamo pronti, Venezia è pronta, la palla al governo. Sono solo due navi la settimana, un dato lontanissimo alle 5-6 navi di qualunque sabato tra giugno e ottobre fino al 2019, ma il segnale è che le crociere torrono a partire da Venezia. Nonostante l'incertezza sulle soluzioni che il governo intende adottare per non far loro più attraversare il bacino di San Marco, MSC ha deciso che vale la pena provarci. E così il 1 maggio la MSC Sinfonia partirà per una crociera di 7 giorni tra Adriatico e De Geo, toccando Cattaro, Bari, Mykonos e Santorini. Il giorno dopo partirà la MSC Poesia, che farà un itinerario più breve. Quattro notti con sosta a Bari, Mykonos e Pireo. Saranno le prime di una serie di crociere che partiranno il sabato e la domenica, per ora, tra maggio e luglio. Ovviamente le navi passeranno per San Marco, non essendoci ancora alternative pronte. Per quelle se ne parlerà tra mesi. Ad anticipare la notizia è stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di mezzogiorno. MSC conferma le crociere, li ringrazio per il bel segnale di ripresa. Stiamo sperando fino in fondo di poter arrivare a Porto Marghera, ha detto il governatore Veneto, ma intanto si parte con due navi e questo ci permette di pensare che il mondo non si è fermato. Un segnale importante, soprattutto per Venezia e la sua economia portuale, che vede da un anno e mezzo oltre 5.000 addetti senza lavoro e l'indotto in grave affanno. Una bella notizia per la città e per la sua filiera turistica è il commento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che proprio ieri si è detto pronto a riaprire i musei. Se il governo lo consentirà e ora possiamo guardare al futuro con speranza e coraggio. Siamo convinti che le navi siano un segnale importante, aggiunge Brugnaro, intanto andranno alla stazione marittima di Venezia. Quella di MSC è un segnale importante perché anticipa la stagione di costa crociere, che partirà dal 16 maggio da Trieste per la prima volta scelta come home port al posto di Venezia, proprio per le incertezze sul futuro dello scalo e anche per le proteste dei comitati che da dieci anni ci sono a Venezia contro il passaggio delle navi. Per il momento quindi il capoluogo Giuliano incassa la stagione croceristica, che si svolgerà da maggio a ottobre e che vedrà le navi costa impegnate in crociere di otto giorni verso Croazia e Grecia. Poi si vedrà, dal momento che Venezia resta comunque in cima, alle preferenze anche delle compagnie, le quali attendono di conoscere lo scenario del 2022 in poi. Ci rendiamo conto che questa è stata una fase molto dura per Venezia e per il suo porto, ha detto Francesco Gallietti, direttore di CLIA Italia, l'associazione internazionale delle compagnie di crociera. Ed è giusto che ci sia una ricaduta economica positiva, in questo senso abbiamo ricevuto molte sollecitazioni degli operatori portuali. Come abbiamo già detto, conclude, gli accosti diffusi che si vogliono realizzare come soluzione transitoria sono una buona notizia, ma sappiamo che ci vuole tempo per approntarli. Una riflessione, negli ultimi tre giorni la media delle persone che hanno contratto il virus erano di due, massimo tre. Nella giornata di oggi ben otto persone mi sono state comunicate dall'OSL in quanto positive. Significa quindi che questo virus, questa benedetta variante inglese, continua a circolare ed è anche molto forte, quindi mi raccomando di utilizzare sempre tutte le precauzioni che fino adesso, insomma, abbiamo cercato di utilizzare al meglio per non far circolare il virus. Come promesso vi do conto della riunione che abbiamo fatto oggi con l'OSL. Abbiamo trattato due problemi. Il primo, come fare per iscrivere al portale le persone con disabilità e quelle persone estremamente vulnerabili. Ebbene, i comuni, il comune di San Michele di Attegnamento è fra questi, ha dato la propria disponibilità, grazie ai servizi sociali, per affiancare queste persone, naturalmente i loro conviventi, per l'iscrizione degli stessi al portale unico regionale. Quindi ci sarà un'assistenza diretta delle nostre operatrici dei servizi sociali per far sì che diventi un po' più semplice l'iscrizione al portale. Rivolgetevi quindi ai servizi sociali del nostro comune tutti i giorni dalle 9 alle 12 e 30. L'altro argomento ricordava gli anziani, i grandi anziani. Ad oggi l'88,64% degli anziani dell'AS4 sono stati vaccinati e questo è veramente un dato importantissimo di cui dobbiamo essere fieri. Ma la stessa azienda sanitaria e la regione vogliono capire perché gli altri 12% circa non si sono ancora vaccinati. Ebbene hanno chiesto ai comuni di verificare con una piccola intervista che andremo a fare a domicilio di queste persone con dei volontari da noi indicati, cioè dal comune indicati, quindi chiedere il numero di telefono, se c'è la volontà di andare a farlo, se ci sono dei problemi, se ci sono dei problemi della mobilità, se dobbiamo andare a domicilio, quant'altro. Quindi chi non è ancora stato vaccinato riceverà questa visita, cerchiamo sempre di stare all'esterno, insomma, se è possibile. Quindi faremo questa piccola ma importantissima ricerca. Dopo aver finito questa fase, e cioè dopo aver vaccinato tutti gli anziani che hanno voluto farlo, passeremo, così naturalmente ci diceva l'OSL, all'età dai 70 ai 79 anni. È molto rigoroso questo metodo perché, lo sapete, credo ormai bene tutti, con ordinanza del generale Figliuolo, responsabile appunto delle vaccinazioni in Italia, è stato detto che si va per età, cioè dai più anziani via via ai più giovani. Carburanti prezzo stracciato, una maxifrode sul Liva, ci sono 10 persone denunciate e fatture false per 113 milioni. La Guardia di Finanza di Venezia, direttata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Veneziano, ha individuato 10 persone coinvolte in questa maxifrode fiscale nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi con gravi elementi raccolti dalle fiamme gialle di Sadona di Piave di evasione dell'IVA per oltre 20 milioni di euro, realizzata attraverso la emissione e l'utilizzo di fatture false per 113 milioni di euro. L'obiettivo della truffa era l'immissione sul mercato di carburante per autotrazione a prezzo particolarmente concorrenziale, grazie all'evasione dell'IVA ottenuta attraverso le false operazioni di compravendita del prodotto tra società di comodo, prima della consegna alla destinazione finale. Le indagini hanno interessato due distinte filiere illecite, nella prima il carburante che risulterebbe acquistato dagli organizzatori della frode da depositi dell'Est Europa, giungeva direttamente presso i distributori all'ingrosso e pompe bianche del Veneto, da dove poi veniva distribuito ai consumatori finali. Sul piano cartolare il percorso del prodotto era invece molto più tortuoso e articolato e prevedeva il suo approvvigionamento da un fornitore sloveno, ad opera di cinque società cartiere collocate in diverse regioni d'Italia, il cui compito era quello di farsi carico dell'IVA derivante dagli acquisti per poi non adempiere conseguenti obblighi di versamento. La successiva rivendita ad un prezzo ribassato dovuto quindi al mancato versamento dell'IVA da parte delle società cartiere. Delle medesime partite di carburante era una società riconducibile a due degli indagati, la cui sede era stata formalmente stabilita in Albania, ma che di fatto risulterebbe gestita dall'Italia. La cessione finale della merce da parte delle società albanese, sia nei confronti di altri operatori commerciali all'ingrosso, sia di distributori stradali, ha un prezzo molto competitivo, circa 700 euro in meno per ogni cisterna, stante l'avvenuta evasione delle imposte dovute. Nel secondo filone invece sono state acquisite prove nel coinvolgimento di un noto operatore all'ingrosso di prodotti petroliferi, che avrebbe contabilizzato false fatture per acquisti di prodotti petroliferi emesse oltre che dalla società albanese, da una società cartiera con sede fittizia a Roma e da due imprese di comodo con sede occulta in provincia di Napoli. Due delle società cartiere coinvolte nelle fraudi individuate, dopo aver movimentato ingenti volumi di prodotti petroliferi, hanno fittiziamente trasferito la sede a Roma e contestualmente hanno ceduto le quote societarie a soggetti prestanome dell'est Europa che si sono resi irreperibili. Finalmente siamo arrivati al secondo carico, ma è importantissimo quello secondo carico perché finalmente il mio sogno è stato realizzato. Abbiamo trovato l'ambulanza, perché dovete sapere che anni fa ho perso un amico in un incidente e purtroppo per mancanza di un'ambulanza che era rotto ha perso la vita e questo mi ha spinto a cercare un'ambulanza per la mia città e finalmente la famiglia di Arretto ci ha generosamente dato un'ambulanza. Ho avuto modo di visitare l'Africa almeno una decina di volte e mi sono reso conto quante difficoltà ci sono in quelle nazioni, a parte la povertà che è storica, ma soprattutto i bisogni sanitari e questo è un piccolo aiuto, un piccolo dono che risolverà parecchi problemi per questa gente che ha avuto la sfortuna di nascere in un paese così. Quanto importante è un'ambulanza nei momenti di urgenza, in caso di incidenti, in caso di patologie gravi? Lei è un medico, lo sa bene? Certamente ce lo insegna il 118 nostro che è veramente uno dei top a livello nazionale e anche internazionale e per cui ci vuole un intervento di un'ambulanza che deve essere anche attrezzata per fronteggiare le situazioni di emergenza in attesa di portare il soggetto nel luogo più idoneo in cui verrà trattato. Non solo l'ambulanza, ma oggi abbiamo anche altri materiali per l'ospedale di San Luis, il tasto dolente e il costo per l'espedizione, perché mentre la prima volta la raccolta di fondi è andata benissimo e velocissimo, questa volta è andato un po' a rallento, abbiamo raccolto 1.400 euro, tra cui 1.000 euro donato da un signore senegalese che viveva a Milano che non vuole che diciamo il suo nome, però lo ringraziamo ancora di nuovo per il 1.000 euro che ha dato e i 400 euro li abbiamo raccolto tra amici trevigiani e amici senegalesi che vivono nel Veneto. E ve ne servono? Ne servono 3.200 euro, abbiamo 1.400 euro, manca ancora un bel po' da raccogliere. Meno male che la ditta Fiorini ancora una volta ci ha dato la possibilità di poter caricare senza pagare prima, quindi anticipo a lui tecnicamente i soldi e dopo noi pagheremo di seguito. Quindi non posso non fare un appello per chi non ha ancora fatto il gesto, gli chiedo veramente di non voltarsi dall'altra parte. Con la firma della convenzione tra l'amministrazione comunale di San Donato di Piave e il comitato App Libro Parlato Lions prende avvio un nuovo servizio culturale digitale specificatamente dedicato a una componente fragile della popolazione che sarà fruibile presso la biblioteca civica. Il service delle app del Libro Parlato Lions è un service della storia lionistica che si è evoluto tecnologicamente e attraverso gli strumenti mobili mette a disposizione delle persone che non sono in grado di leggere autonomamente circa 20.000 titoli in lingua italiana, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e cinese. Naturalmente la disponibilità di questi titoli non è isolata soltanto alle persone che hanno difficoltà di lettura nel senso stretto, sensoriale del termine, ma anche a quegli enti convenzionati che rappresentano persone che momentaneamente sono in difficoltà. Il service è nato proprio in seno al Lions Club di San Donato di Piave ed è diventato un service distrettuale, cioè di tutto il distretto Lions. Il Club di San Donato di Piave lo supporta pienamente fin dall'inizio e dedica tutte le energie possibili proprio per realizzare anche un servizio come è il nostro spirito sul territorio. Lo strumento si basa sul contributo di lettori volontari che prestano la propria voce ai testi resi così disponibili per gli utenti che ne usufruiranno. La Convenzione prevede per questo anche un'attività di formazione per i volontari per svolgere tale servizio. Come si dice è una strategia dove vincono tutti. Il Lions che dà un senso al service che è proprio parte dello statuto, vince chi legge i libri, che riesce a combinare la bellezza della lettura con la consapevolezza di fare un servizio importante. Legge chi non ha la possibilità di leggere fisicamente i liberi e quindi riesce a usufruire del servizio di ascolto per condizioni temporanee o purtroppo in alcuni casi anche definitive legate alle proprie condizioni di salute. Quindi per dare merito e anche fare da cassa di risonanza per questo progetto importante noi ci teniamo a fare la nostra parte. Il progetto dell'app Libro Parlato Lions diventa così un ulteriore strumento a supporto del più vasto patto per la lettura al quale Sandonà ha aderito anche per questo biegno mostrando così un'ampia e condivisa sensibilità della comunità sul tema della lettura, quale occasione di conoscenza, di crescita, di cultura e dialogo. Il patto per la lettura è uno strumento importante, diventa un ulteriore patto per la comunità e patto della comunità con cui già oltre una trentina di soggetti di vario tipo, da enti a scuole ad associazioni sostengono il valore del libro e della lettura come occasione di socialità e di cultura ma soprattutto come occasione per lavorare insieme. Io ringrazio quindi anche l'app Libro Parlato Lions per questo supporto delle opportunità e proprio per aver aderito anche a questa occasione del patto per la lettura. Attualmente abbiamo raccolto le adesioni, provvederemo appena le restrizioni, insomma in sicurezza ci consentiranno di firmarlo per partire con il tavolo di lavoro che sarà l'occusione per costruire e per fare cultura insieme alla città e per la città. È primavera e l'erba sta crescendo, si sta risvegliando. Ora immaginate di svegliarvi voi e che qualcuno improvvisamente tiri su le tapparelle, vi dia uno scossone, vi butti giù dal letto, insomma il risveglio deve essere soft. L'erba sta crescendo, non dappertutto in maniera uguale, qualche ciuffo in più, qualche ciuffo in meno e quindi il primo taglio deve essere un pochettino rispettoso, cioè deve essere alto. Fra di noi giardinieri si dice non si deve scalpare l'erba, se invece voi la tagliate bassissima rischia un trauma e quindi anche va a soffrire molto il prato. La cosa da fare è un primo taglio bello alto, tutto uguale, si concima, si aspetta una leggera ricrescita e quindi si va a fare il secondo taglio più basso. Roberto Davide Valerio da Beja Flor con un prato tagliato con calva. Alla prossima! Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24, ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!